1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 0 1, 2, 3 1, 3 art. 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 Grazie. 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 6-5 per te? 5-4 5-5 5-4 5-4 6-5 6-5 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 9-6 9-6 10-6 9-6 10-6 10-7 10-8 11-8 4 5 6 6 7 7 15 16 16 16 16 15 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.